Salice modello Race, dal costo di 125 euro unisex, destinato alla competizione e all'alto livello. Quindi utilizzo prioritario in pista per uno sciatore esperto, sciatrice esperta, gamma 2010-2011. Le misure da 56 a 61, quindi da S a XL. La calotta esterna in ABS verniciato lucido, la struttura interna in ABS a doppia densità. L'imbottitura particolare Carvel con schiuma viscoelastica P630 a lento ritorno e senza memoria, analergico, sanitized. Il sottogola, la chiusura, rapida, scato in acciaio con sette regolazioni, micro. Le omologazioni CE e N1077, classe A. Le particolarità è totalmente made in Italy, con calzata anatomica senza necessità di utilizzo di spessore. Quindi lo si mette in testa e calza perfettamente su ogni fisionomia. Colori bianco o nero. Le nostre conclusioni. Un casco estremamente tecnico, anatomico, avvolgente, offre totale protezione e una volta calzato ci si dimentica di averlo in testa. Qualche difficoltà in entrata, chiusure e alloggio per la maschera perfetti. I nostri consigli d'uso. Un casco prettamente da gara, solido, essenziale, efficace, destinato quindi ad agonisti, professionisti e comunque sciatori di alto livello votati alla velocità.